Sperare da soli non è possibile e San Paolo mostra che la speranza cristiana non ha solo un respiro personale ma comunitario. Lo ha detto Papa Francesco durante la Catechesi dell'Udienza Generale. Ai fedeli riuniti in aula Paolo VI il Pontefice ha precisato che non conosce la speranza, che si chiude nel proprio benessere, nel proprio appagamento, mentre ne sono veri testimoni quanti sperimentano ogni giorno la prova, la precarietà e il proprio limite. La dimora naturale della speranza dunque è un corpo solidale e la comunità intera deve farsi prossima agli uomini e alle donne che hanno perso coraggio, sopraffatti dal peso della vita e hanno bisogno di essere confortati e consolati. Questa testimonianza poi non rimane chiusa dentro i confini della comunità cristiana. Si suona in tutto il suo vigore, anche al di fuori, nel contesto sociale e civile, come appello a non creare muri ma ponti, a non ricambiare il male con il male, a vincere il male con il bene, l'offessa con il perdono. Un cristiano mai può dire «me la pagherai», mai. Questo non è un gesto cristiano. L'offessa si vince col perdono. A vivere in pace con tutti. Questa è la Chiesa e questo è ciò che opera la speranza cristiana, quando assume i lineamenti forti e al tempo stenso teneri dell'amore. E l'amore è forte e tenero. È bello. Nei saluti in lingua, Papa Bergoglio ha ricordato la 25esima giornata mondiale del malato che si celebrerà sabato in memoria della Vergine di Lourdes e la beatificazione, svolta sia Osaka in Giappone, di Husto Takayama Okon, fedele laico giapponese, morto martire a Manila nel 1615. Grazie a tutti.